Giorno amici cofelici, oggi realizzeremo un dentifricio ideale per chi ha le gengive molto sensibili. Ci vorranno davvero pochi minuti per prepararlo. Io lo utilizzo tutti i giorni ed avendo le gengive molto rosse infiammate noto un netto miglioramento da quando utilizzo questo dentifricio. Vedrete subito che utilizzandolo le gengive diventeranno più rosa grazie alle proprietà del gel d'aloe presente in questo dentifricio. Inoltre ha anche un'azione sbiancante grazie alle proprietà del carbone vegetale attivo. Andiamo a vedere subito il tutorial. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.